La Campania è tra le regioni con meno incidenti stradali, eppure le polizie assicurative sono tra le più costose della penisola italiana. Per quanto riguarda il numero di incidenti, a guidare la classifica sono Umbria e Toscana. In questa speciale graduatoria la Campania si piazza quindultima, con circa il 3,3% degli automobilisti a causare un incidente stradale. Eppure il premio assicurativo da corrispondere per gli automobilisti campani è superiore alla media rispetto alla classifica stilata da Facile.it. Polizie che nel 2014 saliranno anche in gran parte delle regioni d'Italia, nonostante la diminuzione di incidenti e di preventivi fatti presso le assicurazioni. È possibile però che il numero di incidenti stia lentamente diminuendo non a causa della vettuosità degli automobilisti, ma per un numero minore di auto in circolazione e di chilometri percorsi. La Campania questa volta può fare bella figura, sebbene è possibile che molti automobilisti preferiscano la constatazione amichevole, evitando il passaggio assicurativo. Resta ancora il giallo relativo alla sproporzione tra tale classifica e la tariffa da pagare per gli automobilisti campani.